Protagonista indiscussa delle vacanze degli italiani, la Puglia si conferma tra le mete turistiche più ambite anche da milioni di turisti stranieri che ogni anno popolano le sue ridenti terre. In questo contesto, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche e culturali di questa terra, nasce Shopping a Puglia, un magazine in due lingue, italiano e inglese, nelle versioni cartacea e digitale, che si propone di guidare i turisti attraverso dieci itinerari turistici che accompagnano il lettore tra i profumi e i colori di una terra affascinante come poche, aprendo una finestra sulle cattedrali, sulle spiagge, sui castelli, sulla natura e sugli splendidi borghi. Ketty Mercurio, marketing manager di Svicom. Shopping a Puglia è nata dalla volontà di valorizzare questo fantastico territorio che è la Puglia e di offrire ai turisti, sia pugliesi che nazionali che internazionali, che ogni anno afforano la nostra fantastica terra, uno strumento per orientarsi tra le bellezze della Puglia. 150.000 copie saranno distribuite all'interno degli alberghi e dei luoghi di attrazione turistica lungo tutto il tacco, da Foggia a Lecce. Per chi non dovesse riuscire a trovare la rivista cartacea, c'è la possibilità di scaricarne la app, sia per Android che per dispositivi iOS, e la possibilità di sfogliarla online sul sito www.shoppingapuglia.it. L'iniziativa che gode del patrocinio dell'assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo della Regione Puglia, del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, di Federalberghi e di altri importanti enti pugliesi e nazionali, è stata presentata nello storico palazzo Beltrani a Trani nel corso di una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti Fabio Porreca, presidente della Camera di Commercio di Foggia, Vittorio Saquella, direttore di Svicom, e Ketty Mercurio, marketing manager di Svicom.